Si è suicidato con un colpo di pistola Romano Contrada, 78 anni, fratello di Bruno, ex numero 3 dei servizi segreti del SISDE. Il tragico gesto a Napoli nel primo pomeriggio di ieri su di una panchina davanti l'ingresso dell'ex base della Nato a Bagnoli, proprio mentre in quel momento stava transitando una pattuglia di polizia. Il suicida abitava nel quartiere fuori grotta. Sopra un muretto a poca distanza è stato trovato un biglietto in cui l'uomo che non aveva documenti con sé aveva scritto di essere stanco di vivere. Da tempo Romano Contrada aveva seri problemi di salute. L'uomo si è sparato con la sua pistola in bocca, morendo sul colpo. La scena è avvenuta proprio sotto gli occhi degli agenti di una pattuglia delle volanti della polizia che in quel momento transitava in un servizio di perillustrazione della zona.